benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi siamo qui su tears of the desert per vedere in azione la nuova corazzetta tier 9 giapponese adatara ha questa nomea particolare perché erano deciso tra adatara adatara però almeno è adatara semplicemente i giapponesi la pronunciano così anche se ignoro totalmente quale sia il significato di questa parola appunto qui è come top tier situazione con sommergibili in acqua u 190 tedesco contro sturdy inglese e diciamo contenuto numero di destroyer z44 veloce jagger contro z46 a stericolta di grunningen tantissime navi da battaglia che compongono le due formazioni è classico line up quindi 12 contro 12 random in domination con triplo cap in diagonale noi giocheremo praticamente quasi tutta la partita sul cap di c cercando anche qualche colpo in crossfire su b ma solo nella parte finale perché effettivamente il nemico da questa parte andrà a schierare tantissime navi quindi saremo impegnati per la gran parte del match potremmo schierare da questo lato il gorizia tier 7 che gioca poverino da bottom tier il veloz interessante caccia torpediniere tier 9 e poi la z44 la classica torpedo boat però alla tedesca perché effettivamente è una nave della kriegs marine ad atara è una corazzata tier 9 che effettivamente non è altro che la tier 8 elevata al tier 9 con i cannoni da 457 potremmo tranquillamente chiudere la recensione qui questo perché comandanti a livello di velocità mimetismo manovrabilità e a tutti gli effetti lo stesso identico scafo della nave precedente e se guardate infatti anche la somiglianza ave in questo caso abbiamo una mimetica completamente diversa rispetto a quella che avevamo messo su una nave a tiro 8 precedente però effettivamente le somiglianze sono pressoché identiche i suoi cannoni però da 457 hanno una potenza di fuoco decisamente superiore e rappresentano tra l'altro il massimo del massimo questo tier per quanto riguarda la marina giapponese ad esclusione della leggendaria musashi che però come sapete non è più tenibile se non in rarissimi eventi come le aste e quant'altro qui volevamo che l'algeria effettuasse una manovra di virata non lo fa ma guardate i nostri cannoni completamente spazzata via cioè poveraccio non ha potuto far nulla virare e rallentare completamente spezzato in due questo perché questi 457 hanno una penetrazione mostruosa e quando la nave è angolata in realtà fanno un favore ai proiettili perché le fuse come sapete lavora meglio deve penetrare più armatura quindi c'è più possibilità che il colpo vada effettivamente a esplodere all'interno della cittadella della nave nemica e il sigma comunque di 2.1 quindi è veramente notevole per una nave da battaglia anche se comunque sapete che lo standard giapponese è sempre molto elevato le corazzate giapponesi sono da sempre da quando esiste questo gioco tra le più precise di world of warships per quanto riguarda il compartimento hp 71100 con un diciamo 29 per cento di resistenza sui torpedo anche qui non un granché 305 mm di cittadella laterale portata da un fasciame da 32 onnipresente che la rende parecchio soggetta agli incendi con una proia poppa ahimè anche qua da 25 mm qui noterete tutti i grandi e giganteschi limiti di questi cannoni che quando trovano un bersaglio di prua o angolato fanno veramente malissimo e trovano spesso la cittadella ma quando devono colpire bersagli che sono full broadside o particolarmente leggeri fanno una dannatissima fatica a raggiungere la cittadella e molto spesso o vanno in overpen oppure fanno semplicemente dei danni pen e basta qui guardate un po colpo nella zona centrale del baffalo tre penne buone comunque 14.000 in realtà potevamo colpirlo un po più a prua ma lui si è fermato l'ultimo era difficile prevederlo guardate qua anche adesso il car joan che abbiamo recensito poche settimane fa è una nave da battaglia che è specializzata nel lanciare i siluri ha pure dei cannoni che ricaricano niente male ma ha un'armatura laterale molto molto leggera guardate un po il colpo ap 12.900 anche qua due overpen addirittura un colpo è scheggiato il colpo effettivamente va spesso a segno lo otterrete anche durante la partita ma le overpen o i colpi oppure che scheggiano e letteralmente rimbalzano via rispetto alla nave sono un grosso limite di questa nave come lo sono anche in realtà di tutte le nuove tipologie di batte ship diciamo del nuovo ramo della AGM Navy per quanto riguarda le sue capacità di movimento sono identiche alla nave precedente 31 nodi e mezzo di velocità massima raggiungibile con un raggio di virata di 880 metri e che ha un'efficienza massima della timoneria di 16 secondi punto 2 per quanto riguarda il mimetismo 12 chilometri 200 metri è peggiorato di circa 400 metri rispetto alla nave precedente ma si sarà di tier spot invece via aria e via immersa 9 chilometri e mezzo quindi effettivamente è anche qua molto molto simile alla nave precedente se notate il cap di A è tranquillamente controllato dalla nostra forza che tra l'altro conta qualcosa come 7 navi con lo Jager che addirittura ormai ha raggiunto quasi la missuri sul lato più esterno mentre risceglie e grinding attengono sotto controllo per il nemico il cap centrale e la nostra lasca è un po bersagliato lì dalla batte ship francese ma soprattutto dalla missuri che tira dalle retrovie quindi andiamo a cercare un po di utilizzare quest'isola che c'è in i8 i9 per evitare i possibili scontatissimi silure della z46 che non può che tirarci contro considerando che siamo il target più grosso a parte l'alsas da questo lato dello schieramento per quanto riguarda poi il discorso dei cannoni che sta vedendo in azione a volte tra l'altro il colpo è incredibile nel senso che prende delle delle non lo so delle traiettorie strane anche se il sigma 2.1 ma a volte è stento a crederci anche io che l'ho testata quattro torri ribinate da 457 millimetri guardate adesso ad esempio guardate adesso che in questo è interessante poi andiamo avanti guarda un po linea di galleggiamento lui continua andare in reverse dovrebbe finire sotto i nostri colpi guardate un po è perfetto il tiro guardate niente niente eppure hanno superato l'isola niente hanno colpito i i delfini e le orche di quella zona dicevo quattro torri ribiate da 457 con 43 secondi a 180 c'è un malo spetto al tirotto perché effettivamente il brandeggio è peggiorato e il carico è in 26 secondi e 4 con il sesto modulo a disposizione e 288 metri di dispersione con 2.1 di sigma a 23 chilometri 900 metri è un colpo statisticamente preciso anche se nella pratica a volte lo è altre volte purtroppo non lo è il munizionamento è standard HE e AP con il 35% di fire chance 7300 per quanto riguarda il proiettile HE do 13500 il proiettile AP armor penetration con una ballistica anche qui diversa 805 metri colpo incendiario 860 al colpo AP anche in questo caso come sulla Tsurugi e le altre navi che avete visto sempre della nuova tipologia batteshi giapponese tutte queste navi hanno sempre comunque il colpo incendiario più lento del colpo AP guardate qua adesso Broadside solo le torri davanti sempre un colpo che potrebbe essere letale sulla Johan 6008 con tre pen ma niente cittadella ed eravamo comunque sulla zona di galleggiamento a livello di mirino questo perché perché questa balistica ad 860 metri al secondo ha una traiettoria tutta sua e delle volte conviene quasi alzare il mirino veramente alzare il mirino e cercare una penetrazione direttamente sullo scalino del ponte centrale altrimenti non la cittadella non la troverete mai perché il colpo o trapasserà la nave oppure esploderà prima di raggiungere la cittadella è un colpo che si comporta in maniera piuttosto anomala per quello che lo standard giapponese oggettivamente le secondarie sono sei torri da 100 mm e 12 singole da 140 fino a 7,7 km con la bandierina a bordo ricarica ogni 2,7 7,6 secondi con il 6 e il 10 per cento di fire chance 1700 2400 è il danno alfa che possono generare è una secondaria che sulla carta può sembrare anche buona ma in realtà è molto vulnerabile i cannoncini tendono a rompersi facilmente quindi sconsiglio di settarla full secondaria come fa qualcuno perché ormai quando vedono delle secondarie grosse oddio secondaria full secondaria ragazzi no è una cecchina da lunga distanza non è una nave full secondaria a questo punto la georgia cerca di fare questa strana manovra di quasi mezza suicida contro la nostra formazione noi aspettiamo a sparare perché comunque stiamo godendo di questa invisibilità dovuta alla cortina fumogena che il velos ha appena piazzato velos o z44 spariamo adesso se guardate tre pen e due ricochet contro un'armatura molto leggera come quella della georgia anche qua è sempre come dico prima a volte questa nave i proiettili si comportano in maniera molto strana per quanto riguarda l'airstrike antisommergibile che non vedete in azione perché il sommergibile è dall'altra parte tra l'altro è sotto attacco da parte dello jager alleato sono le classiche le classiche bombe lancete dagli aerei ogni 30 secondi con due attacchi singoli ogni 30 secondi con due bombe in pelo da 4200 anche qua piuttosto efficiente nel suo danno e a livello antiero sicuramente è la nave può offrire degli attacchi contro i sommergibili piuttosto efficienti come la maggior parte delle corazzate comunque di questo tia qui entra in azione secondaria che ormai la trovano la georgia a cortissima distanza qui guardate un po il santander fa l'errore non solo di fermarsi ma di angolarsi leggermente assiste non è completamente bruciata è solo nostra salva vedete quasi 33.000 perché non era full bruciata era leggermente inclinato verso l'esterno se guardate e questa cosa ha permesso ai colpi di lavorare meglio in penetrazione e quindi esplodere all'interno della cittadella sono i grandi misteri di questa balistica che si da un certo punto di vista è notevole perché ti permette di spalare anche lunga distanza con maggiore facilità perché un colpo veloce ti aiuta in tal senso però le penetrazioni sono tutte loro la traiettoria è tutta loro e anche dei colpi che magari potrebbero sembrare facili cittadelle con altre navi in realtà diventano pen over pen e il danno massimo sviluppabile dal diciamo dall'icona nera non arriva quasi mai quasi mai per quanto riguarda l'antiaerea è migliorata sensibilmente rispetto al tirotto dice che è decente direi che è decente però anche qua non affidatevi poi tanto i suoi cannoncini da antiaerea batteria da 20 40 100 millimetri 263 danno continuativo 1470 radiante fino a 5,8 chilometri questo è quanto quindi questo diciamo che è il compartimento statistico della nave a livello massimo per quanto riguarda invece il discorso legato comandanti ai consumabili abbiamo il classico repair party che migliora di 426 hp per 30 secondi con 78 di ricarica identico a quello del tier 8 anche se ha un leggero miglioramento dovuto al tier e poi il consumabile speciale che avete visto anche a disposizione dell'altra nave ovvero l'aero scout con alta precisione ogni volta che lo utilizzate con il modulo che poi vi farò vedere nel setup skill moduli comandante resta in volo per 85 secondi con una ricarica di 103 e migliora effettivamente del 10 per cento la gittata e del 20 per cento la dispersione dei vostri cannoni quindi il colpo diventa molto molto più preciso guardate qua anche qui adesso sulla risceglie risceglie è nota per essere una corazzata particolarmente tenera nella zona superiore specie a poppa dove tantissime batterie dove si possono effettivamente farle molto male se avete visto due colpi a segno e due colpi in ricochet questo stramaledetto colpo in ricochet questo questo rimbalzo sembra essere veramente onnipresente durante la battaglia con questa maledettissima ad atara tier 9 ad atara tier 9 ora il buffalo sta facendo i conti contro i cannoni di veloce z che stanno lavorando benissimo in coppia da questa parte magari avviceli sempre due giocatori di destroyer come questi noi vediamo che lo z 46 esce dalla sua cortina che è esaurita guarda il colpo come si stringe una bella trambata da quasi 7000 che produce anche tantissimi punti xp e a questo punto lo z deve fare i conti contro i nostri due destroyer considerando i punti vita è anche abbastanza solida come nave ma non può assolutamente farcela contro il rato di fuoco del veloz che è terribile in confronto a quello dello z tutti gli effetti sono i cannoni del fletcher tier 9 nella versione greca quando la nave venne venduta alla marina greca questa è un po' statisticamente la nave è una corattata da medio lunga distanza anche piuttosto interessante per quanto riguarda la gittata soprattutto e il rato di fuoco perché dovete pur sempre considerare che spara ogni 26 secondi e mezzo più adrenaline rush quindi che migliora la ricarica con dei 457 e tanta roba però comunque sono per sempre 8 cannoni e non sono 9 12 quindi sono per sempre 8 soprattutto con quella balistica non sapete mai quando il colpo effettivamente farà male all'avversario oppure no attenzione al finale di video perché è molto interessante vi ricordate no i danni principali che abbiamo fatto fino adesso sulle navi l'algeri l'abbiamo sventrata colpendo la prua e facendo quindi quel colpo penetrando la forte il santander l'abbiamo colpito brutalmente sulla fiancata quando era leggermente angolato facendoli oltre 30.000 guardate adesso perché saremo noi vi spoilero ad affondare il santander e lo faremo mangiandoci quasi tutti gli hp che gli sono rimasti a bordo con un'unica singola salva sulla fiancata no comandanti sarebbe stato quasi sicuramente overpen sulla prua overmatch di prua questo ragazzi è l'overmatch colpito di prua e il colpo va in cittadella perché abbiamo fatto così male a questa nave perché effettivamente i comandanti era nella zona di prua servono più centimetri per entrare con i cannoni e la nave ha lavorato benissimo in tal senso questi proiettili richiedono sempre navi particolarmente angolate quando sono broadside fanno una fatica enorme a penetrare esplodere nella cittadella magari penetrano ma non a sufficienza per esplodere nella cittadella sono molto strani comunque quasi 161 mila danni 60 colpi assieme comunque è buona come risultato due kill due basi difese qualche colpo di secondare sulla georgia e poi due kill raggiunte per quanto riguarda invece lo score della partita è piuttosto eloquente siamo arrivati ampiamente primi l'unica nave oltre i 2000 quasi 500 punti su secondo che tra l'altro è stato lo jager bravissimo sul lato nord che ha lavorato anche contro lo sommergibile probabilmente i punti maggiori li ha fatti per quello e poi la buonissimo combo in lavoro che hanno fatto veloce z anche se in realtà non hanno pagato poi tanto in termini di diciamo di punteggio per quanto riguarda la squadra questi sono i moduli e le skill che io consiglio a bordo di adatara che poi effettivamente adatara che poi è effettivamente lo stesso identico setup che avete visto anche sulla nave tierotto a livello di skill è identico quindi identici ragionamenti per quanto riguarda la ricarica migliorata dell'aeroscout per averlo più a disposizione la resistenza maggiore sugli incendi che sono un grosso problema da gestire come anche le hp migliorate con la skill che è sulla quarta colonna a livello 4 c'è una sola differenza ed è appunto il sesto modulo sulla modulistica in basso se guardate c'è il modulo della ricarica questo perché effettivamente il modulo sesto è sbloccabile solo al tier 9 al tier 8 non c'è si sblocca massimo il quinto con appunto il modulo che porta al metismo quindi per forza di cose diciamo che siamo messi in questo modo per il resto è identico setup anche perché l'ho detto prima è l'identica nave precedente se non che monta dei canoni da 457 però effettivamente non cambia praticamente nulla a livello statistico quasi nulla c'è non appunto il parametro dei canoni per quanto riguarda l'armatura è piuttosto invece diversa a livello statistico questo perché c'è un rivestimento da 32 molto più grande rispetto a quello della nave precedente proprio rimangono identiche come anche la timoneria e quel fascioma da 220 che qua diventa 255 che va leggermente a coprire la parte superiore della poppa la sovrastruttura centrale 19 c'è poi questo doppio ponte perché sullo scalino che poi porta alle fiancate da 32 mentre nella zona superiore che porta effettivamente alle sovrastrutture è in realtà da 57 questo permette diciamo una maggiore resistenza contro l'incendio rispetto alla nave precedente ma comunque le fasi le zone colpibili sono talmente ampie e grosse che quel ponte da 57 copre solamente forse il 25 30 per cento dell'intera zona superiore della nave quindi gli incendi purtroppo capiteranno comunque per quanto riguarda poi l'armatura in cittadella è molto simile c'è questo non so se lo potete vedere ho cercato di ingrandirlo al massimo c'è questo strano diciamo trapizio centrale che è la cittadella leggermente superiore alla zona di galleggimento da 280 la zona da 305 superiore e la zona da 280 laterale che ha quel strano triangolo rettangolo in quel caso sono le spaziature quindi effettivamente è una sorta di turtleback imitata alla giapponese che probabilmente prende ispirazione da quella tedesca della krigsmarine però non lavora bene come quella tedesca che ha delle spigolature maggiori e degli angoli di entrata migliori quindi in realtà è quella lavora molto meglio però in ogni caso è un dato superiore rispetto alla cittadella che avete visto ad esempio sulla zurugilla la batte scittire nave premium quella propriamente è un ferro da stiro senza nessuna spaziatura qui diciamo che bene o male la nave si può difendere un po' meglio rispetto alla versione premium ecco per quanto riguarda invece i pro e i contro il bilancio finale rispettivo della nave è il seguente è un bilancio leggermente positivo comunque dovuto soprattutto al calibro di questi cannoni la ballistica è tanta roba la discreta tempi di ricarica l'agitata ampia l'efficienza timone speciale scout capace comunque di migliorare la proiezione che tra l'ho detto è un marchio di fabbrica di tutte le nuove navi quindi 8 9 10 a parte la premium e poi l'immetismo superiore alla media è comunque comandante un mimetismo che la porta a 12 chilometri 2 ci sono battesci che hanno addirittura dei mimetismi vicini ai 13 chilometri al tier 9 quindi solitamente è comunque una delle migliori in questo anche se non raggiunge lo standard inglese che è un po' il top della categoria per quanto riguarda l'immetismo delle corazzate al tier 9 per quanto riguarda i punti deboli la propria da 25 anche qui il marchio di fabbrica della linea abbiamo poi il problema legato agli otto cannoni principali che comunque sono limitati nel numero e anche se comunque sono da 457 molto vulnerabile ai siluri perché il suo rivestimento di toro è solamente del 29 per cento quindi effettivamente considerando che ha solo 71 mila punti vita con tre siluri giapponesi sarete effettivamente in avaria e se non per dire quasi morti nessun potenziamento al motore rispetto al tier 8 precedente non c'è un cambio di marcia avere un tier 8 che naviga 31 nodi e mezzo con la bandierina va bene averlo al tier 9 diciamo che non è proprio una nave lentissima perché c'è anche di peggio però ci sono tantissime navi veloci a questo tier e quindi questo gap un po' si sente nelle random battle il colpo genera troppo spesso overpan l'avete visto benissimo in questo video io ho cercato non solo di trattare l'overpan ma anche i colpi in ricochet i colpi in pen e basta i colpi che dovrebbero andare in cittadella invece non colpiscono niente insomma nonostante abbia un sigma di 2.1 e l'ho anche ricordato in questo video devo dirvi che il colpo non mi sembra così preciso come poi riportano le statistiche a volte mi domando veramente se sia una statistica vera oppure sia una sorta di variante iniziale ma poi il colpo tende ad aprirsi a volte in maniera inesorabile a parte quando utilizziamo l'aeroscato in quel caso la differenza si sente come e poi l'antiera è insufficiente l'antiera ve l'ho detto è identica a quella del tier precedente c'è un leggerissimo miglioramento per quanto riguarda il danno continuativo ma si parla di soli 20 25 punti quindi è veramente esiguo e non è sufficiente contro le super porterie in tanto momento contro le tier 10 anzi è peggio perché almeno il tier 8 le super porterie non le prende questo invece prende sia le super cv tier 11 diciamo non ufficiale sia le tier 10 li fanno a pezzi quindi nonostante sia effettivamente una nave migliore a livello antiero rispetto magari alle zumo resta comunque un gap importante rispetto altre marine come quella americana che offre appunto standard diversi livello antiaereo o quella sovietica anche questo un po diciamo è ad atara nella sua recensione spero comunque che vi sia piaciuta come sempre sul finale di video vi ricordo che siamo all'entro della settimana su twitch dal lunedì al venerdì a volte anche la domenica stiamo tra l'altro streamando il king of the sea quindi se volete venireci a vederci anche durante il fine settimana su twitch giù nell'info box c'è il link al nostro canale seguitici anche lì è lì che facciamo le nostre produzioni lì che effettivamente tutto prende forma vi ricordo che se volete veramente dare una mano a me potete farlo avete magari amazon prello collegato a twitch ottenete prime gaming gratuitamente vi potete collegare e abbonare ogni 30 giorni al mio canale avete tutti quei vantaggi qui sulla sinistra scritti in nero e potete entrare a far parte della business squad avere quindi un supporto dedicato tanto aiuto riguardo le domande guardare lo streaming anche registrati anche se comunque quelli di questo mese saranno liberi perché andiamo a far vedere la gente il torneo quindi saranno comunque streaming liberi rispetto all'archiviazione normale del passato ma tornerà tutto normale a partire dal mese di novembre e poi potete guardare lo streaming senza pubblicità che comunque è sempre tanta roba oltre che avere le emoticon personalizzate e tutto il resto signori questo è tutto se avete domande vi ricordo fatele pure nei commenti riguardo ad atara noi ci sentiamo prossimamente con la tier 10 che andrà poi a concludere la nostra recensione del nuovo ramo battleship giapponese da tutto scritto e dal noto e famigerato ammiraglio nano del lago di garda è tutto ci sentiamo alla prossima comandanti buona caccia